Questo ostaggio purifica il sangue, la pelle e i reni in un colpo solo. Per questa meravigliosa ricetta avrai bisogno di un bel pezzo di zucca, togli la boccia e tagliare a pezzi. La zucca ha un alto contenuto di beta-carotene, sostanza che aiutano a prevenire il cangro grazie all'alto contenuto di fibre. La zucca inoltre aiuta a regolare la funzione intestinale perché è facilmente digeribile. Per questa ricetta occorre anche una carota, sbocciola e tagliare a pezzetti. Infine ci serve mezza tazza di lenticchie. La fibra solubile delle lenticchie aiuta ad eliminare il colesterolo nel sangue. Ora aggiungi questi tre ingredienti in una pentola, bersa acqua fino a coprirli completamente e fai cuocerlo per 20 minuti. Nel frattempo lascia un like e seguici. Una volta che le lenticchie saranno ben cotte, lascia raffreddare un minuto. Adesso metti tutto nel frugatura e frulla per 3 minuti. La nostra bevanda miracolosa è pronta, se vuoi puoi filtrarla. Bevi questo succo a stomaco vuoto 4 volte a settimana per ottenere il massimo dei benefici e verrai come il tuo corpo comincerà a migliorare.